benvenuti a toxic relazioni tossiche narcisismo e oltre allora si parla di sesso a rischio di sembrare bacchettone che non sono chi mi conosce lo sa come diceva alberto tomba ai tempi allora bisogna un po sfatare forse per le nuove generazioni che sono cascate un po in questo tranello questa moda bisogna un po sfatare l'idea dopo di che ognuno fa quello che vuole che esista una sessualità disconnessa completamente dall'emotività non sto parlando dei sentimenti cioè si può fare sesso con una persona che non si ama chiaro ma che esista un sesso totalmente disconnesso dall'emotività e dal chi siamo cioè da un corpo senza l'io no non esiste non esiste e è molto facile dimostrarlo nel senso che persino il porno che è per eccellenza il prodotto più materiale della sessualità cioè nel senso che non è erotismo ma è come dire la descrizione la come dire la produzione di materiale puramente sessuale eccetera in molti fin non in tutti sono presenti degli elementi tipici dell'affettività più calda il bacio sulla bocca per esempio c'è che bisogno ci sarebbe di mostrare in un porno il bacio sulla bocca in un porno si può fare a meno eppure c'è così come c'è il bacio che è di fatto a mio avviso e non solo mio sostanzialmente il fulcro di questa piramide rovesciata che è il sesso per cui è un'enormità di cose basate che si regge quasi sostanzialmente su questo fulcro infatti se non ci piace baciare una persona il rapporto difficilmente avrà lungo termine se non proprio inizierà o comunque non sarà di sicuro il rapporto la relazione che ricorderemo con più entusiasmo in ambito sessuale il bacio è presente anche in quelle avventure che in realtà non avrebbero un anno bisogno di nessun amore no eppure c'è l'affetto eppure c'è la carezza eppure ci sono in realtà una massa nel sesso occasionale una massa di atti che fanno capo all'affettività enorme d'altro canto chi fa sesso non è un robot cioè un corpo privo di me privo di pensieri è una persona che arriva lì in quel letto in quella discoteca in quel posto con la sua storia e quindi è una storia che si unisce intimamente poi questa intimità può essere letta in una maniera più o meno profonda perché può essere anche un'intimità occasionale superficiale però è una storia che si incontra con un'altra storia e sono cose che rimangono cioè non funziona secondo non funziona generalmente secondo un paradigma per cui avviene una cosa e si oblitera si cancella si annulla ciò che è avvenuto e si passa oltre le cose si sedimentano in maniera più o meno conscia in maniera più in maniera più o meno consapevole in maniera più o meno importante ci sono poi persone che non ci sono poi persone che hanno proprio una sessualità molto molto impersonale stiamo parlando in relazioni tossiche ma molto impersonale molto distaccata che reificano ad essere il latino cioè trasformano in oggetto l'altro per cui non c'è più un incontro di storie c'è l'incontro di una persona con un oggetto sostanzialmente che è lì per il proprio piacere che è un po la posizione del vero pervertito al pervertito fondamentalmente non ha un rapporto non ha una relazione sessuale ma fondamentalmente fa sesso fa un sesso funzionale alla realizzazione di un proprio desiderio che spesso presuppone anche una forma d'odio ma qui si entra una discussione abbastanza complessa che vi evito però ecco è importante ricordarsi questo cioè è importante secondo un altro ricordarlo tipo prendi e porta a casa metti in tasca cioè e lo dico le nuove generazioni sappiate che quando fate sesso e fate quello che volete fatelo le precauzioni tutte le solite storie però non è che la testa sta a casa e il corpo va in giro e si diverte ci andate tutti cioè siete tutti lì con la vostra storia con quello che siete e quando finisce la cosa ve la riportate tutti a casa e sedimenta e c'è e si costruisce la vostra identità su quello punto dopodiché fate quello che non è quindi fatelo solo con chi cioè non è un compito che spetta non so filosofi o religiosi non a me fate quello che volete ma sappiate che tutto ha una sua poi prende una sua posizione nella vostra mente nella vostra psiche più o meno importante più o meno sedimentata più o meno spessa però non esiste un corpo senza io punto tutto qua un saluto e al prossimo video di toxic